Chi è? Sono Antonio! Antonio! Sono Antonio! Sono Antonio! Sono Antonio! Sente, può ciascere, vado a... Così! Chi è un muddaloro? Non lo so. La fontanella cranica dei neonati, che hanno la testa a molla, è quindi un muddaloro. Quando una colata lavica scorre sui fianchi di un vulcano, entra in contatto con l'aria, che è più fredda. E quindi cosa fa? Comincia a raffreddarsi. Non è mare, ma fa lunne. Non è pecora e setunne. Non è porco, ma ha vinciti. So qui, buaccio, sapete? Ma cosa da farsi? Salute, salute. A che prendiamo, dai? Ma non do chi è che io vivi senza manco sapere? Vino bianco, vino bianco di quelli buoni, buoni, buoni. Bevi tu ogni tanto? Ah, non bevi? Non è che avrà per un rinombra? Come ho detto quant'anni prima? E l'ho bevuto tranquillo. Noi ci vediamo domani. Hai gli auguri che avete fatto? Auguri, tanti auguri. Felice anno nuovo. E' imbriaco senza vino. Insomma, me lo sono segnato. Avanzi. Che cos'è? Un pizzino? Che cos'è? Piano vetore. Monte zaccaloro. Schiava dell'asino. Non hai visto ha insettato una. Una. Non hai visto abbastato una. Che chi? Schiena dell'asino. Schiena dell'asino. Hai ragione. Monte soccarolo. Soccolaro. Soccolaro. Un vicerito se cala una cona. Da un po' io mi metto qua e tu dimenticati. Va bene? Comincia a sbattere le uova. Prima sbatto le uova. Prima sbatto le uova. Bella sbattuta. Forza. Ecco, è così. No, no, no. E' sbattuto. Per la rubrica sulla lingua siciliana, oggi vi ho portato a Coppolo e Zuvicenzo, che è una cosa che mi ha detto considerata volgarissima, ma oggi qui vedremo che in realtà non lo è appunto. Non è per niente. Ad esempio, sull'Etna troviamo l'istrice, il riccio, il ghiro, la volpe, il coniglio, la lepre, ma anche lo sparviero, il gheppio, l'aquila reale, il falco pellegrino. Non l'hai fatto vivere niente? Che vuoi? Un champagne? Acqua bella pulita, acqua naturale, achianga. Era il nome della pietra bianca su cui si taglia la carne, la pietra su cui con la mannaia si andava a staccare allegramente le teste dei polli. Era quella proprio achianga e poi per questo passo a definire l'intero negozio. Ci vediste? Ora vai a mettere il formaggio. Sì, ma il formaggio qua è... Nell'imparatura deve essere... Ah, il formaggio... Perfetto. Il formaggio grattugiato, sono il formaggio di destra. Perciare, pericocca, pericutto, perrera, pertuso, piscerolo, piscione, pisolo. Per esempio abbiamo la volpe. Ce n'era una addirittura qualche anno fa che le guide, l'avevano presa in simpatia e gli avevano anche dato un nome. L'avevano chiamata Gioacchina. Noi sull'Etna avevamo una volpe che si chiamava Gioacchina. Oh, ma chi sei da sud? Non mi sentite? Non rispondite. Guaci, mi facistevo pavare come se fosse suffro. E io suffro, sogno. Non sento, io non parro. Antura, invece, cioè poco fa, viene dal latino anteoram, che significa proprio un'ora fa. Antura. Dico, tu stavo come faccio io, no? Eh, tra una chiacchiera e l'altra, tra una riminata e l'altra, il piatto è servito. No, pronto! Il piatto è pronto e dopo è servito. Isolo, isolo! Eh, il piatto è isato, pronto e servito. No, cioppo isato, calato. Il piatto è calato. Il piatto è pronto e servito. Grazie a tutti. Ciao.